La ricerca di un lavoro è agevolata da seria professionalità. Città Studi Biella si è fatta promotrice con un corso di operatore specializzato in servizi di cucina. Siamo nel laboratorio didattico di cucina di Città Studi, che è stato allestito qualche anno fa per rispondere alle esigenze delle direttive mercato del lavoro e obbligo di istruzione per la realizzazione delle attività pratiche dei corsi della ristorazione. Oggi ci troviamo per l'ultima puntata della metodologia didattica che si chiama Chef per un giorno. Questa metodologia didattica è stata sviluppata nel corso della direttiva mercato del lavoro, ossia la lotta contro la disoccupazione, un corso di 600 ore rivolto ad adulti disoccupati. Nell'ambito della metodologia abbiamo proposto alla classe di dividersi in diversi gruppi e di fare in tre puntate tre proposte di un loro ristorante con una tematica. Il primo era relativo alla cucina regionale, il secondo alla cucina alternativa e il terzo, quello di oggi, in conclusione, alla cucina etnica. Quindi gli allievi si sono cimentati in una rivisitazione di alcune ricette orientali, thai e piuttosto che indonesiane, e hanno presentato tre proposte di spiattamento e di tipologia di ristorante. E dalla redazione di Biella è tutto.